bentornati e bentrovati al vostro tonio nato 4 non è un tonio smite news tecnicamente è più un tonio review più o meno di questo gioco di questo personaggio allora parliamo del 2 parliamo di mordred hanno fatto vedere si sono in ritardo come al mio solito ragazzi scusate sono come al solito un imbecille pigro parliamo di mordred hanno fatto vedere due video di death type e due video si tirano 30 secondi di roba che praticamente erano loro che parlavano 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 ma mostrare quasi niente e hanno fatto uno special specifico un dettaglio sulla ulti allora ovviamente ho già parlato di mordred di come non mi piace il design che gli hanno dato ed ecco le loro scelte creative come esempio la seconda spada di mordred che continuano a tirare giù dicendo è questa è la sua spada ma è la sua spada della guendetta eccetera eccetera non ce ne sta non esiste non so dove l'abbiano presa non esiste proprio nessun mito sta spada seconda spada cioè era la clarent e c'era un motivo se era la clarent ed era così importante la clarent no no la clarent è la seconda spada che scala l'intelligenza tua capoccia dovrebbe scalare l'intelligenza a volte vorrei dire ma lasciamo perdere allora come ho già detto non si è visto molto a parte questa storia della ulti è proprio proprio magari quella della ulti vorrei proprio aggiungere si è notato ho notato un po' di stili di combattimento simili ai classici in realtà era molto simile a Arthur in realtà lo vedo che è un po' hack and slash lo si è visto nei video che praticamente fa un fendente fa una combo poi parte con un'abilità poi fa un'altra cosa che switcha praticamente eccetera eccetera e continua a caricarsi la passiva questa passiva della rabbia eccetera eccetera una nuova risorsa illimitata che una nuova risorsa che nessuno è nuova è perché nessuno aveva la rabbia dentro al gioco nessuno aveva la rabbia dentro al gioco nessuno nessuno aveva la rabbia dentro al gioco nessuno e di come hanno villantato la sua ulti che è una globale che prende il bersaglio in aria lo lancia in aria li fa dei fendenti e poi lo sbatte per terra come che è una ulti che non si è mai vista parliamo appunto di questa ulti allora letteralmente tre cose è globale sì e no diciamo che secondo me usarano il termine globale perché è inarrestabile però non credo duri così tanto da permettergli di fare l'intera mappa secondo potrebbe essere anche multi target nel video mi pare di aver visto che ha colpito più di un bersaglio terzo forse per quanto mi riguarda almeno a livello tecnico è un pochino troppo secondo me deve avere almeno dei limiti in che senso c'è da che rispire questa ultima ha la capacità di innanzitutto lo rende immune a qualsiasi effetto di controllo ma vabbè ce lo sta quasi tutti i personaggi ormai hanno sta cosa smite veramente si va in tunnel vision letteralmente si vede solo una specie di cerchio della visuale normale in prima persona o una cosa del genere più o meno sembra una terza persona molto ravvicinata praticamente come se tu mettessi la telecamera sopra la testa di Mordred più o meno e passa attraverso tutto il terreno letteralmente passa attraverso ogni singolo terreno che ci sta ed è questo quello che mi ha fatto un po' cioè nemmeno un po' provo tanto dire un po' troppo perché ok è globale quindi la posso lanciare se è veramente globale posso andare avanti finché non colpisco un bersaglio sì ho notato che c'ha le stesse cose delle abilità che sono così che sono a come dice a canalizzazione continua o con riscatti per esempio oddio ma non mi viene in mente cazzo me lo so segnato però c'avevo questo pensiero che praticamente allora League of Legends ok faccio sempre un esempio di League of Legends perché è quello più famoso tecnicamente di MOBA quindi potrebbe essere più utile capirlo come cosa se avete presente oppure se avete presente per esempio abilità come per esempio Sambu Kong con le trasformazioni specialmente per il toro che altro la tigre più che il toro oppure il Rar Shang nella forma strano che ho parlato di Rar Shang San Wukong quando è uscito Black Meat Wukong è vero? vero? ok tutte queste abilità praticamente a scatto che praticamente hanno un problema di quando tu devi direzionare un attimo lo scatto praticamente devi girarti un pelo praticamente perché hanno ovviamente uno scatto linee quindi dovete cercare di girarvi almeno un pochino per cercare di prendere il bersaglio diciamo quelle cose lì un po' come ecco il missile di Danzaburo è un po' più semplice come esempio perché come esempio il missile di Danzaburo non può fare dei turni a gomito delle giravolte a gomito come dice delle curve a gomito a pieno perché c'è tipo ha bisogno di lasciare una specie di mezzo cazzo neanche una mezza unità per girare bene diciamo è come se voi si girasse quella macchina e prendereste il finestrino con palo praticamente è una cosa del genere mentre girate ecco una cosa del genere ho notato che c'ha questo problema che quando Mordred scatta con la ulti tende a essere un po' come un treno quindi se tu lo schivi con la giusta angolazione praticamente lui non può girarsi per prenderti a pieno però tutto sommato direi che è troppo che passi attraverso i muri non c'è mai stato fino ad ora è vero per quanto riguarda quella parte non c'è mai stato finora un'abilità che permette di passare totalmente attraverso i muri non sto dicendo si c'è sta clina lo so che c'è clina c'è sta claudia lo so però sto parlando di un'abilità attiva che permette di passare attraverso i muri si ci sono degli scatti permettendo di passare attraverso i muri si però non come questa ulti che permette letteralmente di tenere premuto perché per attivarla e continuare a passare attraverso i muri a prescindere non è uno scatto capito è globale si è rotta come cosa si perché se il muro è abbastanza grande e lui riesce appieno a prendere l'asse del muro nel senso che ci passa attraverso senza uscire mai se lui ne so per esempio se io sono dentro al muro come mod lo sto caricando lui mi vede arrivare perché anche se c'è visione se io entro dentro il muro e lo sparisco come fa Grina per esempio cioè è rotta come cosa non avere niente che lo fermi è veramente rotta come cosa per esempio potrebbero fare sì che il suo grande una grande problema sono cioè ci sono tre maniere diverse maniere per far regolamentare bene questa abilità magari dagli un cooldown altissimo un tempo di durata magari cioè un tempo di durata basso o meglio nel senso c'è un tempo di durata e che si possa body bloccare perché da quello che ho visto non si può body bloccare questa abilità perché l'attacco che fa quando prende il bersaglio a quanto pare è a cono tipo al mirino e quindi prenderà sempre qualcuno o multiple e questo ho detto sembrerebbe anche a multiple bersaglio però cioè passare attraverso tutto il terreno mi sembra un po' tanto per esempio potevano fassire che con sta cosa della tecnologia siccome stanno bilantando tanto sta cosa stanno tanto tirando questa storia della tecnologia che ogni volta che lui passa attraverso un muro la durata si riduce perché così ci dici ok dovrà manovrarsi dovrà calcolare bene la traiettoria sì ok la cosa di Danzaburo è identica anche Danzaburo per esempio è una global se prende mili al bersaglio il missile ci va appresso fino alla certa ci va appresso cioè quindi chiaramente è una global oppure la ulti di nit è una global se lei ha visione dell'avversario anche se sta dall'altra parte della mappa lo vede lo prende però la ulti di 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 nit si può bloccare la missile di Danzaburo si può bloccare questa a quanto pare non si può bloccare è un pochino un po' troppo quindi cioè per bypassare una facilità così alta di esecuzione questa ulti hanno fatto si ok non ti puoi muovere più di tanto però comunque secondo me devono fare devono stare attenti perché è veramente trantorotta come cosa avrei preferito una cosa che fosse in realtà una specie di ulti magari alla Ione sempre parlando di League of Legends che praticamente è un gigantesco scatto non proprio globale ma semi globale sarebbe stato molto comodo che gli è spunta addosso ad esempio poi ho visto anche quello che credo sia la sua versione non potenziale di questa ulti perché a quanto pare hanno fatto identico ad Arthur questa cosa della ulti caricata non caricata grazie alla passiva ho notato che c'è questa cosa che crea una gabbia attorno a un bersaglio che da cui assorbe qualcosa presumo vita qualcosa del genere non lo so che cos'è perché come ho già detto non ho in mano niente hanno solo parlato e villantato questa ulti però per il momento oltre che non si sa più di tanto per il momento è sul rischioso cioè rilasciare un personaggio così rotto se beh che è tutto rotto adesso nel primo è un po' rischioso poi vabbè ovviamente stiamo aspettati che arriva il prossimo personaggio dopo questo che là veramente apri di cielo raga perché veramente deve arrivare il papa dal vaticano per fermarmi da gridare perché veramente e niente sinceramente queste sono state le impressioni che ho visto di mordere il 24 ci sta la prossima alfa ma ovviamente come ho già detto io non ho né la console né il pc per giocacce quindi ciccia godete proprio per me anche magari mi fate sapere dei feedback così posso parlare nei miei video e cose così sempre comodo usarvi come fonti di formazioni vi ho chiesto per gli strumenti perché veramente non so niente degli strumenti che ci sono normalmente sto aspettando una wiki decente ma non c'è ancora da trovare quindi niente fatemi sapere la vostra ci vediamo un po' sempre ragazzi vi ricordo e per il momento è tutto bye bye che c'è che c'è Grazie a tutti.